La telefonia mobile e i sistemi di comunicazione in genere sono ormai parte integrante della nostra vita e difficilmente possiamo rinunciare al loro utilizzo. Ma esistono dei reali rischi legati ad un uso continuo di tablet, telefoni cellulari e reti wifi? Esistono dei rimedi che possiamo adottare per proteggerci dalle onde elettromagnetiche emesse dal nostro inseparabile smartphone? Il dottor Luca Verdi, direttore del laboratorio di chimica fisica di Bolzano, ci parla di alcuni semplici accorgimenti che possiamo mettere in pratica per utilizzare in modo corretto i nostri cellulari e tablet. Quando si parla di inquilamento elettromagnetico siamo abituati a pensare alle grandi installazioni di nuove antenne o di ripetitori per la telefonia cellulare. Quando viene costruito uno di questi nuovi ripetitori vicino a casa, le persone tipicamente si allertano o hanno giustamente delle preoccupazioni. Il tema di oggi in realtà non sono queste antenne alle quali siamo abituati a guardare con sospetto, ma sono i cellulari o gli smartphone che usiamo quotidianamente. Perché? Perché in realtà sono proprio questi telefoni portatili che causano la maggior parte dell'inquinamento elettromagnetico. ossia se misuriamo il contributo all'inquinamento elettromagnetico legato alle antenne che stanno fuori dalle nostre abitazioni, troveremo dei valori sempre piuttosto bassi. Se proviamo invece a misurare cosa succede in prossimità di un apparecchio del genere quando lo utilizziamo, i campi aumentano in maniera misurabile e sensibile. L'obiettivo di oggi è di cercare di mettere a fuoco alcuni semplici consigli che possono essere attuati da chiunque in maniera tale da ridurre, da minimizzare la propria esposizione rispetto agli smartphone senza per questo dover rinunciare a nessun tipo di servizio tecnologico di cui vogliamo godere al giorno d'oggi. La prima regoletta molto semplice e banale è di usare sempre l'auricolare oppure a viva voce, evitando quindi di avere lo smartphone o il telefonino attaccato alla testa. Una cosa ovvia però che è bene ribadire perché ha un grandissimo effetto sui campi elettromagnetici. Altra cosa che è ovvia è preferire sempre la linea fissa cablata rispetto a una telefonata con un cellulare o alla navigazione con il cellulare. Quindi navigare utilizzando la linea fissa quando c'è e telefonare con la linea fissa laddove è disponibile. Un'altra regola semplice ma da non dimenticare è quella di evitare le emissioni inutili. Cosa vuol dire? Di notte quando nessuno utilizza il cellulare, nessuno utilizza il wifi di casa o si spegne tutto e si mette il cellulare in modalità aereo oppure quantomeno il cellulare se non lo puoi spegnere lo si mette in un'altra camera. Un'altra regola importante è consideriamo che le persone al giorno d'oggi non vogliono rinunciare all'utilizzo dello smartphone in casa propria. Quanto meno però usiamolo in maniera corretta, cioè se posso scegliere fra collegarmi alla rete tramite una rete wifi oppure tramite la rete cellulare, devo assolutamente prediligere la rete wifi. Le rete wifi sono dimensionate con pochissima potenza 0,1 watt proprio per coprire il piccolo ambito del proprio appartamento. Viceversa le antenne cellulari che stanno all'aperto sono pensate per un altro scopo, non a caso hanno 100-200 watt di potenza, quindi sono smisurate per coprire in casa propria. In questo modo oltre che avere un beneficio per l'utente abbiamo anche un beneficio per l'ambiente perché le stazioni radiobase all'aperto vengono utilizzate di meno e quindi il carico elettromagnetico per l'ambiente cala. L'ultima regola si riferisce all'utilizzo dello smartphone o del cellulare in macchina, ebbene va evitato. L'automobile rappresenta una gabbia di faraday e quindi scherma rispetto ai campi esterni, significa che il cellulare stesso per funzionare deve sparare alla massima potenza disponibile e quindi espone il soggetto a un campo elettromagnetico inutile, quindi va evitato proprio per ridurre la propria esposizione ai campi elettromagnetici. In questo senso ci sono altri aspetti legati alla sicurezza stradale che forse sono addirittura più importanti dei campi elettromagnetici. Ed ora un importante intervento relativo all'aspetto tecnico dell'uso del cellulare in materia di sicurezza stradale del sovrintendente capo della polizia stradale di Bolzano, Gabriele Evaldi. L'aspetto tecnico dell'uso del cellulare indubbiamente ha degli aspetti negativi, tanto quanto previsto dal codice della strada, appunto, elencato dall'articolo 173, che vieta espressamente l'uso del cellulare o di apparecchi radiomobili alla guida del proprio veicolo. L'articolo in questione, appunto, prevede una sanzione di 161 euro e una decurtazione di 5 punti sulla patente. Il legislatore però ha voluto dare uno stretto, un giro di vite maggiore perché se nel biegno successivo, appunto, alla data dell'infrazione viene commessa la stessa violazione, è prevista anche il ritiro della patente, la sospensione della patente da 1 a 3 mesi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito internet dell'Agenzia Provinciale per l'Ambiente all'indirizzo ambiente.provincia.bz.it